3 per le porte e altre 3 per quella fuori l'ingresso dal garage provare a mandare dentro solo uno ok, let's go ok, vado su la destra ok, ce la guardia, ce la guardia devi venire qua a te, perché tu devi metterci 4 Sergio ha fatto il direttore ci sono telecamere simoc.6 120 secondi, via il trapano occhio, no, no telecamera fai il computer si, si, sto facendo oh, merda vai, vai su a spostare vai su, vai su teo, vieni qua adesso, su, vieni su non metto il C4 però è la drivator di P5 senti vengo anch'io a farmi questo stai coperti vengono su dalla scala stiamo tutti dentro qua in due coprono a destra in due coprono a sinistra via, 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 niente chiavi per me dai, dai, andiamo su, andiamo su andiamo, andiamo pronti ragazzi io mi sposto già si teo, teo, teo lancio granata sì, sì, l'ho ucciso l'ho ucciso occhio quando lascia dentro, vieni dentro teo grazie, andiamo ne avevo uno davanti tu dentro ok dai, Sergio apri tutto aspetta tenetevi di armoni sono tutte aperte ragazzi fatti con calma tutto perfetto ragazzi abbiamo un'altra ondata e dovremmo dai, Sergio, fai per il cazzo un altro dodger sparate un altro dodger merda i soldi della rapina me li gioco di psicologi ragazzi sono finite le munizioni no, non preoccuparti non mi comando dobbiamo portarle tutte dentro una per volta non vogliamo andare avanti troppo qua, aiuto le scarse da che parte? ah, ok vieni, vieni nella stanza seguo, vieni nella stanza siamo quasi ragazzi siamo quasi scudi, scudi, scudi di qua due ok, ultima bag ultima bag muovetevi sul pullman siamo posto andiamo vai spostate io sto fuori posta Sergio sposta sposta sto io sulla porta vai vai dobbiamo fare un pezzettino ah, sono più pezzettino cazzo ci siamo ultimo c'ero io credo ok ci siamo andiamo andiamo bella è no 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 Grazie a tutti.